ciao a tutti e benvenuti sullele king tv ragazzi facciamo questo bel video in quale nel quale metteremo a confronto i due album che sono usciti e che sono diciamo che si fanno concorrenza tra di loro che fifa 365 2019 e la champions league 2018 2019 della tops quindi panini contro tops allora ragazzi e qui in alto alla destra del video basta cliccare esce fuori una e se cliccate sulla i c'è il sondaggio nel quale potete votare il vostro album preferito a questo modo importante perché poi influenzerà i prossimi video sul canale quindi l'album che riceverà più voti sarà quello più presente nel quale io diciamo tra virgolette investerò di più per fare video allora ragazzi come grandezza degli album sono uguali quindi per adesso non c'è differenza e lo star pack solo bisogna cominciare a parlare lo star pack questo della tops costa 4 euro e 24 euro e 50 adesso non mi ricordo sta sui 4 euro ci sono soltanto tre bustine questo della panini di fifa 365 ci sono 5 bustine costa 3 euro e 50 paghiamo soltanto le bustine l'album è quello in versione gratuita infatti non c'è scritto il prezzo questo della tops a questo punto ci fanno pagare anche l'album visto che le bustine costano 70 centesimi solo che se andiamo a vedere voglio tra l'album non c'è scritto il prezzo come fa di solito la panini per gli album a pagamento da questo è quello che c'è da dire sullo star pack allora ragazzi in copertina ci sono i giocatori più rappresentativi qui ci sono quelli che partecipano alla champions league alla fine anche qui ci sono tutti quelli che partecipano champions league anche se fifa 365 è più ampio qui abbiamo i gardi abbiamo gioco abbiamo ronaldo abbiamo rodriguez abbiamo insigne e abbiamo modric da quest'altra parte su quello della panini abbiamo manpe abbiamo ronaldo abbiamo modrici abbiamo levante abbiamo muller scusate e griezmann fino a qui niente di male l'unica cosa le squadre all'interno perché se andiamo a cercare le squadre italiane qui logicamente ci sono tutte le squadre partecipano la champions league quindi c'è juventus napoli roma inter se andiamo a vedere su questo c'è soltanto inter juventus e napoli manca la roma che gioca la champions e questa secondo me è una grande mancanza poi logicamente sono due album diversi perché la panina non può fare con le champions league quindi è più di larghe vedute ci sono club stranieri però detto questo vi devo dire anche l'anno scorso c'erano delle pagine dedicate agli altri campionati a delle coppe del mondo al calcio femminile al calcio giovanile e mi sembra giustissimo perché qui ci sono delle pagine una due pagine dedicate al calcio femminile secondo me sono anche poche ma però poi c'è un intero paragrafo di quattro pagine dedicato alla coppa del mondo del 2018 quella di russia gli avrei evitato queste pagine qui sinceramente per il mio gusto avrei preferito mettere magari qualche altra squadra in più allora andiamo a vedere come è fatto questo di album quello da champions league si inizia subito con le squadre oltre le prime due figurine che rappresentano la coppa quindi si inizia subito con le squadre le figurine sono quelle tradizionali c'è quella grande dei giocatori più rappresentativi e dei capitani come vedete qui c'è messo in tutte e due qui c'è godine e c'è christman con delle figurine particolari adesso non mi ricordo se ce n'ho una attaccata adesso vediamo subito non me lo ricordo devo dire la verità c'è questa che è quella del capitano quella grande me sa che non ce l'ho vediamo no non ce l'ho non ce l'ho ragazzi non ce l'ho inutile di guardare non ce l'ho poi per il resto le figurine sono così in questa lezione qua lo sfondo è tutto uguale per tutte quante c'è il giocatore con a il retro lo sfondo che tutto uguale come abbiamo detto le presenze di gol in champions league data di nascita e nazionalità poi ci sono queste altre figurine e finisce con 595 figurine da attaccare questo della panini fifa 365 inizia con una diciamo pagina rappresentativa dove ci sono i vari loghi c'è il paragrafo degli scudetti stanno tutti insieme invece di qua gli scudetti sono vicino alle squadre c'è l'altro paragrafo relativo alle magliette come potete vedere e poi iniziano le figurine delle varie formazioni che hanno scelto per questo album come vedete adesso vi faccio vedere questa real madrid perché ho due figurine attaccate come vedete c'è la figurina quadrata del che rappresenta il giocatore mezzo busto e c'è la figurina in azione del giocatore rettangolare più piccola l'album contiene 468 figurine quindi meno di quelle di quelle relative alla champions league l'album champions league della tops c'è tutto questo paragrafo relativo al mondiale di russia 2018 c'è questa prima parte che è relativa ai gironi dove c'è una figurina per ogni squadra che ha partecipato al torneo adesso non so se ci sarà la figura della squadra o altro perché come vedete non ho trovato niente e poi ci sono i risultati la finale con la francia che festeggia addirittura sono sei pagine prima ho detto 4 scusate sono sei pagine e tutta la squadra della francia con la vittoria finale del torneo come ben sapete poi c'è quest'altra parte relativa al calcio femminile sia under 20 che quello di quelle più grandi e poi c'è l'ultima pagina relativa a football inspirations questa è la differenza fra i due album ragazzi ditemi voi quale preferite quale piace di più io vi dico le mie impressioni di questi due album e molti me l'avevano già detto a molti di voi che l'hanno già detto che quest'anno forse era meglio questo della tops io adesso non voglio influenzare il sondaggio però sicuramente sono rimasto deluso da fifa 2019 da fifa 365 2019 e hanno fatto molti cambiamenti non mi piace avere lo scudetto con la maglietta separata dalle squadre non mi piace ne manco questa cosa della doppia figurina non mi piace sinceramente proprio no non mi piace tutto quel paragrafo relativo a russia 2018 sono praticamente sei pagine e parliamo della bellezza di adesso vi dico quante figurine partiamo praticamente la figurina 400 alla 439 quindi sono quasi 40 figurine relativa una cosa che già ne abbiamo parlato abbastanza penso di russia 2018 quindi non c'era bisogno secondo me da tagli tutto questo spazio anche perché hanno fatto un album un album che secondo loro è andato anche abbastanza bene nonostante hanno aumentato il prezzo delle bustine costavano 90 centesimi a bustina comunque ragazzi fatemi sapere voi nei commenti anche il perché la motivazione per il quale preferite l'uno o l'altro e mi raccomando ci vediamo nel prossimo video continuate a seguirmi sia qui su youtube scrivendovi al canale attivando la campanella che su instagram su instagram basta cercare l'helly king tv mi potete cercare anche lì e seguire anche lì anche perché lì vedrete molte foto in anticipo di quello che uscirà sul canale o su quello che è uscito anche sul canale quindi ragazzi mi raccomando seguitemi anche lì ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti